Domattina nelle tribunale di Pesero parte in assise il processo a Vito Cangini, accusato di omicidio volontario e reo confesso per la brutale uccisione nella casa di Fanano della moglie Natalia Chiriccioc, ammazzata a coltellate a 61 anni dopo che da 14 anni era sposata con l'ottantenne romagnolo di Sarsina, da tempo trasferito nella frazione di Gradara. Si tratta dell'ultimo omicidio verificatosi nel territorio provinciale. Fu un femminicidio sconcertante avvenuto in una notte molto particolare come quella fra Natale e Santo Stefano e contornata da ghiaccianti futili motivi come del rifiuto della donna a fare sesso dopo una presunta promessa di rapporto intimo emersa dall'interrogatorio a Cangini. Una promessa non mantenuta che scatenò un raptus d'ira nell'uomo degenerata fino a luxoricidio con sette coltellate, molte delle quali al petto e al cuore della donna. Natalia era di origine ucraina e lavorava come cameriera in un ristorante di Misano Adriatico. Cangini l'ha uccisa all'apice di mesi di gelosie e paranoia di tradimento. L'uomo passò la notte fra Natale e Santo Stefano dormendo a pochi metri dal cadavere della moglie uccisa per poi trascorrere il 26 dicembre portando a spasso il cane, assumendo alcolici in giro per il paese e rivelando il delitto ad un vicino di casa e al titolare del ristorante di Natalia. I carabinieri arrivarono nella casa di Fanano trovando il corpo della donna morta sul pavimento e Cangini ad attenderli confessando tutto. Nell'interrogatorio di garanzia Cangini confermò il delitto e dopo la reclusione nel carcere di Villa Fastigi lo scorso mese è arrivata la richiesta di giudizio immediato che oggi si traduce nel via al processo in assise.